Grandi emozioni alle Bahamas al Vertical Blue 2021, la gara di apnea che assegni il record del mondo. Il campione russo Alexei Molchanov ha sbaragliato di nuovo tutti conquistando il suo terzo record mondiale con un tuffo in peso costante con pinne che lo ha portato a scendere di 118 metri, con un tempo di immersione di 4 minuti e 38 secondi. Un risultato sorprendente e incredibile sia per la profondità sia per essere rimasto così a lungo sott'acqua. L'apneista russo Molchanov sta davvero dando il meglio dopo essere sceso nei giorni scorsi a 130 metri. I più forti al mondo nei vari assetti oltre al russo sono gli italiani Alessia Zecchini, detentrice di diversi record del mondo, e Vincenzo Ferri che detiene anche il record italiano di 103 metri. Candidata a diventare disciplina olimpica, l'apnea grazie alle nuove tecnologie regala sempre immagini sempre più suggestive.